Ciao Mark Allora che hai combinato? In questi vent'anni Scegliete la vita Scegliete un lavoro Scegliete una carriera Scegliete la famiglia Non provarci Il coraggio e l'abilità del guerriero Fusi con la spiritualità di un monaco Il guerriero Jedi seguirà le orme Dei grandi immaginieri del passato Allora che hai combinato? Scegliete la vita Scegliete Facebook, Twitter, Instagram E sperate che da qualche parte A qualcuno freghi qualcosa Allora che hai combinato così Grazie a tutti.